ciao a tutti sono salvo di piazza da bagheria oggi vi presento una mia specialità la pizza la facciamo con crema di porcini di casselbona freschi mozzarella fior di latte e crudo a per questo impasto uso 5 tipi di farina e meblen uso un 220 240 280 unis con l'integrale siciliano che viene antichi con la farina di semolo questi sono dei punghi porcini intere che sono lavorati per due volte alla prima facciamo un soffritto e poi li frutto con il mini peiner e poi secondo passo da fare unire con panna un po di dago di carne e dalla crema e punta questo ci andiamo a mettere la fia di latte l'andiamo intanto che la pizza cuoce vi spiego un po la la mia levitazione io uso un lievito madre essiccato e faccio 24 48 ore di levitazione e dopo di ciò vediamo il risultato del prodotto un po di olio extravergine questa è la mia pizza questa è la mia pizza vi riassumo gli ingredienti crema di funghi porcini di casselbuono fior di latte crudo a cubetti un saluto a tutti a presto